Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi la giornata che un po' ci aspettavamo tutti quanti dovesse, potesse ma soprattutto dovesse accadere. Perché? Allora guardiamo qui ragazzi, Market Capitalization che è cresciuta ancora un altro pochino e si è attestata vicinissima ai 775 miliardi di dollari. Ma il dato importante è questo, ovvero è la BTC Dominance, la Dominance di Market Capitalization di Bitcoin rispetto all'intero mercato delle criptovalute che da, vi ricorderete ieri ho fatto un video, stava al 33%, oggi è rimbalzata al 38%, ha guadagnato 5 punti percentuali. Ragazzi fare un più 5% sulla Market Capitalization con un totale di capitalizzazione di mercato di 775 miliardi vi assicuro è davvero davvero tanto. E infatti che cosa è successo oggi sul mercato di Bitcoin? Guardate un po' queste due colonne. Nelle ultime 24 ore Bitcoin ha fatto un bellissimo più 15%, solo nell'ultima ora ha fatto un più 1,49% e si è andata a posizionare al di sopra dei 17 mila dollari. In realtà sta puntando ai 18 mila dollari. Quindi finalmente rimbalza, Bitcoin si muove un po' dal periodo di lateralità che stava avendo, dove il tetto massimo era intorno ai 16 mila dollari, sfonde il muro dei 16, sfonde il muro dei 17, adesso andremo a vedere anche il grafico. E che cosa succede? Come ai vecchi tempi ragazzi, quando Bitcoin andava forte, che cosa succedeva? Che le criptovalute, le altcoin rallentavano. Infatti oggi c'è Ripple che perde il 12%, si riposiziona sotto i 3 dollari a 2,90, nell'ultima ora perde altri due punti e mezzo, così come Ethereum che in realtà si perde ma è praticamente ferma perché perde un punto percentuale, quindi si posiziona al di sotto dei 1000 dollari. Ma guardate qua, meno 20% oggi ce lo fa Cardano che riscende sotto al dollare a 0,96 di media adesso, lo stesso NEM con un meno 10% E poi abbiamo Litecoin che recupera un pochino, ci fa un più 5,77, sempre sopra il muro dei 250 dollari. Tron fa un meno 1,84 nelle ultime 24 ore ma nell'ultima ora ha perso quasi un 8%, è tornato a 0,20. E infine Stellar Lumens, vi ho detto un po' quelli che erano i grandi protagonisti, Cardano, NEM, i grandi protagonisti dell'ultima settimana, Tron e Stellar. Stellar perde quasi un 18%, torna a 0,63, sembrava ormai puntasse al dollaro. Ma quello che sta succedendo, guardate anche gli altri, guardate IOTA fa un meno 9%, Dash fa un meno 5%, EOS fa un meno 4,59, Monero fa un meno 3%, NEO fa un meno 9,72. Insomma, che cosa sta succedendo qui? Sta succedendo che come ai vecchi tempi quando Bitcoin andava forte e oggi fa un più 15%, il resto scende. Anche Bitcoin Cash recupera quasi un 7% e si posiziona sopra i 2.500 dollari. Ragazzi, era un po' che lo aspettavamo e finalmente lo abbiamo visto questo nuovo impulso di Litecoin. Vi ricordo che Litecoin tra poco vedrà deployato sulla main test, quindi sulla macchina di deploy, il Lightning Network. Quindi vi consiglio di andare a vedere qui su Reddit questo interessante articolo e se volete andare a leggere quali sono le specifiche, le spiegazioni del Lightning Network. Io l'ho spiegato in qualche video qui sul canale in precedenza, potete andare a vedere, c'è tantissimo materiale per andare ad approfondire. E questa notizia potrebbe portare ancora un ulteriore incremento a Bitcoin. Andiamo a vedere un po' il grafico. Guardiamo qua quello che è il grafico a... qui ce l'abbiamo a un giorno, mettiamolo un secondo a 4 ore. Eccolo qui, grafico a 4 ore di Bitcoin e magari togliamo anche un pochino... eccole qui. Perché volevo farvi vedere questo, che finalmente Bitcoin è riuscito a superare questo muro qua, che era il muro dei 16.000. Vedete come ha avuto prima questo impulso, poi il prezzo ha creato questo flag ribassista e poi il prezzo di nuovo è esploso verso l'alto rompendo questi massimi e creando questi nuovi massimi qui. Guardate anche i volumi come si sono mossi nella giornata di oggi. Vedete che oggi praticamente alle 9 di mattina c'è stato questo grosso aumento di volumi, poi hanno lateralizzato un altro grande aumento. Lateralizzato è di nuovo un aumento. Quindi ecco perché Bitcoin è riuscito a tornare al più 38% di dominance. Che cosa altro è successo? È successo che, guardate qua i volumi, come c'è stato qui un aumento dei volumi di Bitcoin, lo vedete anche sul grafico. E Bitcoin quindi adesso ha un valore di 14.707 euro, quindi siamo di nuovo vicini ai 15.000 euro, ovvero 17.705 dollari. Molto molto interessante quello che ci ha fatto Bitcoin oggi, lo aspettavamo da un po', ce lo dicevamo, Bitcoin rimbalza. E questo è il grafico di Ripple. Guardate qua, Ripple ha fatto questo grande impulso, un ritracciamento che era avvenuto a inizio 2018, qui siamo proprio allo scadere tra il 30 e il 31 dicembre. E poi nuovo impulso rialzista che addirittura sfiora i 3,4 dollari. E adesso siamo in un ritracciamento, quindi che sta succedendo a Ripple, che sta succedendo a Tron, che sta succedendo a Stellar? Erano queste le domande che oggi mi facevate sul gruppo. Ragazzi, non sta succedendo niente, c'è solo una flessione come c'era stata qui in questo momento, perché i mercati non vanno sempre verso l'alto, ma i mercati si muovono in questo modo. E adesso ci troviamo in un momento di flessione, il 20% per una criptovaluta che, quanto ha fatto qui? Andiamo a vedere quanto ha fatto negli ultimi, diciamo da questo periodo qui a questo momento qui. Ha fatto il 500% dal 22 dicembre a questi massimi che abbiamo avuto il 4 gennaio. Quindi una cripto che è in grado di fare il 400% in 10 giorni, ci sta che possa perdere in 2 giorni, in 24 ore, in realtà circa il 20%, perché di questo parliamo. Guardate, vi faccio vedere anche con Fibonacci per farvi rendere conto. Questo ritracciamento è un ritracciamento che, vedete, si trova tra il livello 0,50, che è questo, e il livello 61,8 di Fibonacci. Quindi assolutamente tranquillo come ritracciamento, quindi non c'è nulla di cui preoccuparsi, soprattutto perché questa flessione su Ripple, ma se lo andiamo a vedere anche su, lo possiamo andare a vedere, guardate ragazzi, su Yota, anche Yota, vedete che qui ha perso un pochino, lo possiamo andare a vedere su, vediamo a vedere che ha fatto Dash, che non mi ricordo più. Ok, anche Dash che sta, vedete, ha lateralizzato un po' e adesso sta scendendo. Insomma, lo possiamo vedere un po' su tutte quante le, su tutte quante le, 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 le cripto, vedete, stesso, la stessa situazione con il prezzo che, che flette. Quando Bitcoin mostra i muscoli e la liquidità si sposta su Bitcoin, è quasi fisiologico che ne risentano le, le altcoin. Quindi questo è il quadro di quello che sta succedendo in queste ore. Del resto ce lo aspettavamo, lo stavamo, anzi eravamo, cominciavamo ad essere quasi preoccupati per, per, per Bitcoin, perché dava, non dava segni di, di recupero e, 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 ce li ha dati adesso, per fortuna, ce li ha dati oggi. Vediamo che cosa succederà nella giornata di oggi, anzi vediamo che cosa succederà nel weekend, ragazzi, che è sempre un momento importante. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, lasciatemi un commento, fate click sul like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti per rimanere sempre aggiornati sui, gli aggiornamenti che faccio. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon trading a tutti. Ciao! Ciao!